Terra Amara, episodio di mercoledì 12 aprile, nonnina si sente male per un aneurisma. Nella puntata di Terra Amara del 12 aprile i telespettatori vedranno come la relazione tra Fekili e Unkar farà parlare tutta cucurova. Cacciata di casa da Demir, Unkar si ritroverà di nuovo faccia a faccia con il figlio in ospedale. Dopo il malore della nonnina Zizze causato da un aneurisma, tra madre e figlio ci sarà il gelo. Continua il successo di Terra Amara, la sua optiva ambientata nella Turchia degli anni settanta. Unché l'episodio in onda il 12 aprile non deluderà le aspettative dei telespettatori. Le vicende riprenderanno dal momento in cui la relazione tra Fekili e Unkar sarà diventata di dominio pubblico. Tutta cucurova non parlerà ad altro. Unkar sarà sconvolta, anche perché Demir, furioso, l'avrà cacciata dalla tenuta e non la vorrà più vedere. Nel corso di questa nuova puntata, anche Fekili sarà furioso e cercherà i responsabili della diffusione della notizia. L'uomo non si capaciterà di come qualcuno possa aver voluto fare del male a lui e alla sua amata Unkar. Sarà talmente furioso che si temerà il peggio. Saranno gli il mazzemui gan a evitare che Aliramet possa commettere qualche gesto sconsiderato. In terra amara del 12 aprile, grazie all'intervento del figlio e della nuora, Fekili si calmerà. In seguito, racconterà a loro come sia nato l'amore con Unkar. La nonnina Zizze sarà invece sempre più agitata. Visto che sentirà la mancanza di Unkar, crederà che la figlia l'abbia abbandonata per sempre. Questo clima di nervosismo, porterà la nonnina a sentirsi male durante la colazione. A Zizze, infatti, perderà i sensi dopo aver vomitato. Saranno Demire Zuley a soccorrerla e a portarla in ospedale, dove verrà presa in cura da Muegan. Dopo vari accertamenti, la dottoressa scoprirà che A Zizze avrà avuto un piccolo aneurisma. Per questo la terrà sotto controllo per qualche ora. La nonnina non sarà in pericolo di vita ma saniglie. Preoccupata, avviserà subito la signora Unkar che si precipiterà in ospedale. Nel corso di questa nuova puntata di Terra Amara, Unkar arriverà al capezzale della madre. Lo farà nonostante Demire sarà stato chiaro con lei. Non la vuole più vedere. Quando madre e figlio si ritroveranno in ospedale. Non si rivolgeranno la parola. Dando uno sguardo alle trame successive della SOP TV. La situazione tra Unkar e Demire peggiorerà, nel momento in cui in ospedale arriverà Fekeli. Yaman non riuscirà a trattenere la sua furia e Fekeli sorprenderà a tutti chiedendo in pubblico la mano di Unkar. Una mossa destinata ad allontanare ancora di più Demire dalla madre. Per altri dettagli. Non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra Amara. Anche carina che es fitness di prowenca. Soprattutto in più della部ta. Cosa è la questione di entsposta per la parte di Unkar father? Non è come una questione di comi. In��면 è stato accomuna del Kylo, edgo la mia famiglia diachusetti viene gestione. Una macchina che esolta a trattenere il suo��라고alismo. No è un approcato per la parte di che prezirlandrati. Grazie a tutti.